Iniziamo il webinar di oggi che come sapete è dedicato alle verifiche, all'analisi delle verifiche di strutture in acciaio, verifiche che verranno eseguite mediante trattazioni tradizionali, quindi seguirò ovviamente un codice normativo, la normativa, l'NTC e un approccio del tutto lineare, anche se qualche accenno a trattazioni magari più complesse che in alcuni casi necessitano anche le strutture in acciaio, vedrò di farlo anche oggi. L'ordine del giorno di oggi è questo, vedremo dall'inizio come di consueto la creazione di un modello di SAP, è lo stesso dei webinar precedenti, cercherò di stringare però la fase iniziale, quella di modellazione per dare più spazio invece agli argomenti che normalmente non riesco a trattare. Discuteremo, quantomeno farò un cenno della differenza di modellazione tra piani rigidi e piani deformabili, vedremo come introdurre l'azione sismica, la possibilità di introdurre controventi a sola diagonale tesa, quindi controvento Sant'Andrea, quindi in quel caso gioco forza sarà un'analisi non lineare. Vedremo come SAP nella gestione delle verifiche determina in automatico le lunghezze libere di inflessioni sia per carico di punta sia per svergolamento flesso torsionale e vedremo quindi quali sono le opzioni da passare e nel contempo anche i criteri che sono stati implementati dentro SAP atti proprio alla determinazione di queste lunghezze libere di inflessione. Parlerò ovviamente di verifiche, quindi un cenno anche seppur veloce a criteri di gerarchia e oggi vorrei e tratterò insomma la verifica dei nodi di collegamento attraverso un programma esterno, si chiama SCS, che si connette a SAP, quindi verrà utilizzato quasi come un plugin, quindi come comunque un oggetto che aggiunge delle capacità di verifica a SAP stesso e con questo faremo la verifica di un nodo, due o tre nodi di esempio e faccio vedere quali sono le procedure da seguire. Tutto ovviamente fatto come di conseguito in tempo reale, quindi con esempi che costruiremo assieme. Siccome gli argomenti sono tanti probabilmente anche oggi sforerò a livello di tempo direi di partire subito velocemente alla realizzazione del modello. Il modello creato sarà questo, ripeto sarà sostanzialmente, anzi sarà uguale a quelle dei webinar precedenti, però come sempre nella fase di modellazione cercherò di far vedere quali sono dei trucchi appunto per la modellazione, quindi nel contempo di volta in realtà cercherò di dire, insomma dico sempre cose sostanzialmente simili ma non mai uguali perché essendo in diretta è chiaro che la trattazione può cambiare. Allora, partiamo subito nella creazione della geometria, quindi il modello parte, la forma è semplicissima, quindi si utilizza direttamente i template che ci sono all'interno di SAP, in particolare il template per le strutture in 3D. Ovviamente già sicuramente sapete che SAP accetta l'inserimento della geometria da file esterni di disegno come DXF, ma anche l'input da programmi ancora più sofisticati di disegno rispetto al solo AutoCAD, quindi la possibilità di importare dei file IFC oppure Revit, insomma modelli geometrici che contengono appunto non solo geometrie ma anche definizioni di elementi e quant'altro, quindi magari dopo faccio vedere nell'interfaccia di SAP quali sono i formati di import e di export dei modelli di SAP stesso. Allora sto passando la mera geometria, quella insomma elementare, in particolare 4 piani di sopraelevazione, 5 campate in X, 3 campate in Y, l'altezza di piano 3 metri tutta uguale e campate di default in X di 5 metri e di default in Y di 6 metri. Vado subito a modificare le opzioni di campata, quindi questa è la griglia che vedo e in particolare vado a editare, quindi a strecciare alcune campate che sono quella centrale nel telaio trasversale, diciamo quello che da un punto di vista di sismo resistenza sarà costituito da un telaio a momento e poi le campate invece nella direzione longitudinale che andranno a ospitare i controventi. Inizierò a modellare un controvento a V rovescio ma ovviamente come detto prima parlerò, cercherò di parlare anche come gestire i controventi Sant'Andrea, quindi a diagonale attiva solo quella tesa. Ok, creata questa mera forma geometrica del modello mi ritrovo sostanzialmente la griglia e alcuni elementi già imputati. Come voi sapete, l'avete visto tante altre volte in tanti anche altri webinar, all'interno di SAP ci sono delle liste delle liste di materiali e anche di sezioni come vedrete già preconfigurate, divise per regioni, quindi ovviamente regione si intende la zona ma in generale una normativa, quindi ovviamente Italia vuol dire far riferimento a un determinato materiale, l'acciaio in questo caso chiaramente ci sono liste anche per gli altri materiali e quindi ovviamente nell'acciaio si fa riferimento alla normativa l'NTC 2008 e poi ha un materiale, quindi ha una classe di acciaio, per esempio in questo caso utilizzerò un S355. Ovviamente c'è anche la regione Europe e questo carica automaticamente gli standard, cioè i materiali secondo gli standard dell'Eurocodice 3, quindi è chiaro che in questo contesto rimangono sostanzialmente identici. Aprendo il materiale si vedono le caratteristiche sia da un punto di vista di peso, di massa, quelle inerziali, diciamo quelle di rigidezza che insomma contraddistinguono per esempio il modulo di Young, il coefficiente di Poisson eccetera e poi anche i parametri che servono poi per le verifiche di resistenza, in particolare lo snervamento e la rottura, quindi 350 megapascal di snervamento che come detto prima corrispondono a un S355. A questo punto passo la lista delle sezioni, allora nella procedura di verifica che mostrerò e che ho mostrato anche le altre volte, sfrutterò una caratteristica che c'è all'interno del verificatore di SAP che per le strutture in acciaio consente di fare un'ottimizzazione delle sezioni, questo vuol dire che io importo a livello di SAP una serie di sezioni tipologiche, ovviamente la fase di import è molto semplice, si va a selezionare un file esterno che è un file di database sezionale che non è altro che un profilatario, nella cartella di installazione di SAP c'è un file che si chiama euro.pro e che contiene diciamo tutte le nostre sezioni di tipo commerciale, quindi in particolare dicevo sfrutterò la caratteristica di SAP di procedere a un dimensionamento delle sezioni, a una scelta delle sezioni che seguono dei criteri, lo vedremo, di resistenza ma anche di deformabilità per esempio della struttura, quindi io farò diciamo scegliere a SAP le sezioni che nei diversi punti della struttura vanno a ottemperare le esigenze sia di carattere di resistenza, quindi di mera resistenza ma anche di gerarchia delle resistenze, quando parlo di resistenza ovviamente c'è anche l'aspetto sismico e poi però devono rispettare, questa scelta dei profili rispetterà anche la deformabilità locale del singolo elemento, quindi una freccia per esempio, oppure globale, quindi una deformazione di interpiano, oppure addirittura un periodo e quindi concetto che è diciamo connesso alla rigidezza degli elementi sismo resistenti. Ok, quindi io ho in questa fase importato una serie di sezioni, qua ne vedo la lista, delle profili H e B che ovviamente utilizzerò per gli elementi verticali, quindi per le colonne e dei profili IPE di diversa dimensione che vado a utilizzare invece per gli elementi trave, sia principale che secondaria. Aggiungo a questo punto anche altri profili, vedete le forme ce ne sono di diverso tipo, per esempio un controvento a V rovescio, quindi un controvento che lavora sia atteso che compresso, lo immagino realizzato con dei profili tipo WPN con una determinata imbottitura, quindi sto selezionando delle classi di sezioni, quindi WPN, quindi 200 con imbottitura da 10 o 220 con imbottitura da 10 e poi così di nuovo lascio come invariante diciamo l'imbottitura perché penso a fazzoletti, a nodi di unione insomma che hanno questa geometria, quindi seleziono diciamo i profili che ritengo opportuni. A questo punto per sfruttare la caratteristica di ottimizzazione, lo vedrete poi successivamente verrà reiterata la fase di analisi e la fase di verifica, io prima di tutto devo andare a definire quelle che sono delle sezioni lista, questo vuol dire che all'interno della definizione delle sezioni c'è l'aggiunta, prima avevo scelto la fase di import di nuove sezioni, adesso scelgo la fase di aggiungi di nuove proprietà e c'è una proprietà caratteristica per le sezioni in acciaio che si chiama auto select list, cioè una lista di sezioni che consente l'auto select, cioè l'auto selezione di un determinato profilo, quindi definisco una lista valida per gli elementi verticali, quindi per gli elementi di tipo colonna e quindi passo in questa lista possibile di sezioni, quindi le sezioni papabili, tutti i profili H e B che ho definito precedentemente. Nello stesso contempo definisco le altre liste, quindi per esempio travi principali che utilizzerò per la realizzazione dei telai a momento, ma anche per la realizzazione dei telai nella direzione longitudinale, per esempio quelli di controvento. In questi casi seleziono tutte le ipe che ho selezionato prima e che ho importato prima e le includo nella lista delle travi principali. Procedo allo stesso identico modo anche per le travi secondarie, in questo caso le due liste da un punto di vista sezionale coincidono, cioè hanno all'interno le stesse tipologie di sezioni, ma ovviamente saranno allocate in posizioni diverse. Inserisco anche la sezione tipologica del controvento con i WPN che ovviamente sono andato preventivamente a importare. Già che ci siamo salviamo il modello, così in modo tale da avere, diciamo volendo, anche una storia dei modelli pregressi, delle fasi di modellazione che stiamo per mettere in atto. A questo punto devo passare le sezioni alla geometria, alla struttura, quindi per comodità mi metto in una vista di prospetto, per esempio la XZ, questo non è altro che il prospetto che viene evidenziato da questa parte di finestra che invece è la visualizzazione 3D, vuol dire che è il prospetto sul filo A, tra l'altro, sul filo 4 scusate, tra l'altro i bubble, cioè le etichette dei profili, ci dicono quali sono gli elementi e in quali posizioni stiamo. Schiaccio questa vista in 3D, per farlo è semplice, quindi prima mi sono messo in un prospetto, poi vado sul menu view, set 3D view e do ok, quindi questa in realtà che apparentemente è un prospetto, in realtà è una vista prospettica del modello, seleziono in questo modo tutti gli elementi che ricadono all'interno di questa vista, cioè in sostanza ho fatto una selezione di tutti gli elementi verticali. Seleziono l'elemento di colonna, quindi la lista, cioè colonna, quindi ovviamente come vedremo dopo ogni elemento frame che ho sostituito in realtà è per ora definito con una sezione di partenza di questa lista, ma verrà modificato di volta in volta dallo strumento di verifica che c'è contenuto in SAP, comunque le fasi le vedrete tra un po'. A questo punto rifaccio la stessa selezione, quindi ho riselezionato, cioè riseleziono gli elementi preventivamente selezionati, cioè per gli elementi verticali, inverto la selezione, quindi ho selezionato tutti gli elementi orizzontali e assegno a questi la sezione tipologica della trave principale. Già che sono in questa vista, seleziono di nuovo tutti gli elementi longitudinali di trave, quindi le travi che stanno sui telai paralleli all'asse X globale e assegno a questi una caratteristica essenziale che è quella di avere delle cerniere all'estremità, ovvero dei rilasci delle due componenti flessionali, quindi secondo l'asse forte, secondo l'asse debole e anche il rilascio all'inizio di ogni asta nei confronti della torsione. Questa distribuzione di rilasci all'interno dell'asta si chiama Pined, lo vedrete dopo anche che utilizzerò per gli altri elementi che dovrò ancora tracciare e che di fatto è una cerniera a tutti gli effetti nelle tre direzioni rotazionali e quindi trasmette taglio e è una connessione appunto a mero taglio e a sforzo assiale chiaramente, quindi trasmette le tre componenti di forza e non trasmette le tre componenti rotazionali. Ok, quindi ho definito quindi i rilasci, a questo punto seleziono le colonne, quindi gli elementi colonna, vedete che la lista è comoda anche per selezionare tutti gli elementi contemporaneamente, anche se poi dopo vedrete avranno sezioni diverse in funzione delle resistenze anche secondo gli altri criteri che ho citato e a queste inverto l'asse locale 3, cioè applico una rotazione di 90 gradi dell'asse, questo perché basta vedere l'estruso anche se di buona norma sarebbe andare a vedere, adesso cambio la visualizzazione di colore anche per facilitare la vista sulla trasmissione su GoToWebinar. Dicevo ho invertito l'asse 3 della della colonna per ipotizzando appunto l'asse forte a taglio nella direzione diciamo trasversale dell'edificio, perché in questa direzione come ho detto prima da punto di vista di elemento sismo resistente sarà costituita da tanti telai a momento, quindi le cerniere che ho disposto prima, le posso visualizzare attraverso la visualizzazione dei rilasci, le cerniere sono disposte solo sulle travi in direzione X, quindi nel senso diciamo longitudinale. A questo punto mi sposto sul primo impalcato, quindi lo posso fare in una vista quella estrusa o quella diciamo tradizionale, diciamo per comodità e per analogia a quanto ho fatto prima, lavorerò a sinistra e lascerò una vista globale 3D a destra, poi è chiaro che ognuno trova il proprio modus operandi per ottimizzare la fase di modellazione. dicevo, vado adesso a definire, ad inserire quelli che sono gli elementi secondari, quindi diciamo tutti gli elementi di trave secondarie, ovviamente immagino la presenza di elementi secondari diretti lungo la direzione longitudinale. Vado a selezionare trave secondaria come elemento, ho cliccato su questa icona, la faccio rivedere, questa icona si chiama quickdraw secondary beams, cioè in sostanza un comando che consente, velocemente lo vedrete, di tracciare gli elementi secondari, cioè le travi secondari. Sono di una determinata sezione, hanno dei rilasci a momento che sono quelli che ho definito prima, quindi pinned, cioè tutte e due le flessioni più la torsione a una delle due estremità, e decido di spaziare queste travi con un passo costante, cioè fisso il passo, la campata, cioè il passo tra le singole travi secondarie. E scelgo anche l'orditura di queste travi secondarie, cioè ridiretta lungo l'asse X. Vedete che via via che sto parlando, sto anche inserendo i dati, quindi è chiaro che potevo inserire o una, posso inserire o una spaziatura tra le diverse travi, oppure un numero di travi predefinito. È chiaro che in questo modo, siccome la geometria è fatta con 6 metri e 2 metri, mettendo passi di 2 metri, tutte le travi secondarie saranno disposte a passi di 2 metri. È chiaro che avrei potuto mettere 1,5, avrebbe diviso in funzione, il massimo passo, qui c'è scritto massimo spacing, quindi ovviamente nella campata centrale avrebbe diviso comunque una geometria, una dimensione minore di un metro e mezzo per fare multiplo e quindi arrivare ai 4 metri di larghezza. Quindi in questo caso ho inserito anche solo per questo piano gli elementi secondari. Allora per passare carichi, l'avete già visto in tutti i webinar precedenti, lo rimostro, vado a disegnare direttamente un'area nulla. Il bello dell'area nulla è che è un'area che ha come peculiarità il fatto di poter avere tanti nodi che la definiscono arbitrari, non è un elemento shell, è un elemento area, un elemento di comodo, che servirà, lo vedrete, a ripartire il carico in senso monodirezionale sulle travi secondarie e anche principali in funzione della loro area di influenza. Quindi vado ovviamente a ridisegnarla tutta intera, quindi in tutta la struttura, vado a ruotare quelli che sono gli assi locali di quest'area nulla che ho disegnato, in modo tale che l'asse rosso, che è l'asse 1 di quest'area, sia orientato in modo ortogonale alle travi che devono prendere carico, quindi alle travi secondarie e primarie e principali che sono, come detto prima, ordite direzionate secondo l'asse X, all'asse X globale. A questo punto vado a segnare i carichi su quest'area e il carico che vado a mettere dentro è un carico uniforme, perché è un'area, però scelgo tra le due opzioni di carico uniforme che posso mettere in un elemento bidimensionale, scelgo un carico che si chiama uniform to frame. Questo uniform to frame consente, come vedrete, di passare un carico di tipo monodirezionale direttamente sugli elementi interessati. Vado a definire a questo punto anche le etichette di carico che interessano, ovviamente in particolare andrò a definire un'etichetta di carico per i completamente definiti, un'etichetta di carico per i non completamente definiti, un'etichetta per il carico accidentale, quindi per i live, variabile insomma che io introdurrò nell'edificio e poi volendo anche un carico neve per esempio che prevedo e prevederò di inserire a livello di copertura. I carichi che vado a mettere sono semplici, poi i modelli ve li mando, il modello ve lo mando alla fine della presentazione, cioè oggi pomeriggio, quindi vedrete, potrete capire, conterrà ovviamente tutte le impostazioni che stiamo mettendo. In particolare sto disponendo 3.5 kN al metro quadrato di carico completamente definito, diretto secondo ovviamente l'asse gravitazionale e da distribuire secondo una direzione monodirezionale. Fra un po' vedrete che cos'è questo concetto, lo riapplico anche agli altri carichi, quindi in particolare a per esempio 1.8 kN al metro quadrato, quindi circa 180 kg al metro quadrato per i non completamente definiti, il 200 kg classici, quindi 2 kN per i variabili, quindi per il carico variabile e poi in copertura vedremo di inserire il carico neve corrispondente. A questo punto seleziono l'area nulla, seleziono anche le travi secondarie, quindi quelle che ho inserito prima secondo l'orditura della direzione X, quindi tutte le travi che ho inserito dentro e vado a replicare questo elemento area e elementi frame che rappresentano le travi secondarie 3 volte sui 3 metri di altezza, quindi nei 3 interpiani rimanenti. A questo punto mi interrogo su che cosa sia come detto prima questa distribuzione di carico uniforme, se io vado a chiedere a SAP di mostrare il carico che abbiamo appena inserito, per esempio il G1 e dimostrare il risultato di questa distribuzione one way, quindi monodirezionale, vi ricordo che nell'area nulla c'era la possibilità di trasferire il carico secondo one way, cioè monodirezionale, oppure two way, quindi nelle due direzioni contemporaneamente, ovviamente avrebbe fatto delle aree di influenza che risentivano di una distribuzione bidirezionale. Se io vado a vedere nei diversi punti della struttura che cosa ha fatto, vedo che questo carico viene distribuito in funzione dell'area di influenza che questi elementi strutturali hanno, in particolare per esempio a caldo vado a cancellare un elemento strutturale, il carico che prima si prendeva questo elemento che ho cancellato ovviamente va a destra e a sinistra di questo elemento e quindi si ripartisce in automatico sugli elementi adiacenti, questo avviene anche nella condizione per esempio in cui io sposto di 50 cm per la presenza di cavedi o di elementi di solaio che necessitano una ridistribuzione, non in z, magari in direzione x, in y, necessitano una ridistribuzione delle travi diverse e vedrete che il carico si ripartisce in funzione sempre e comunque dell'area di influenza aspettante. È chiaro che il carico che agisce su questa trave che ho spostato rimane sempre lo stesso per ovvi motivi geometrici, ma si riduce e aumenta il corrispondente carico in una direzione e nell'altra. Ok, quindi di fatto in questo modo ho passato elementi principali, elementi secondari, mancano il disegno e il tracciamento dei controventi, quindi mi sposto sul primo prospetto, quello di facciata tergale, quella sul profilo dell'allinamento del picchetto 4, vado a disegnare i controventi, in questo caso seleziono la sezione controvento, la forma del controvento, per esempio V invertito e il fatto dei rilasci come abbiamo visto prima e vado a disegnare i controventi così come li ho precedentemente descritti, quindi dei controventi a V rovescio nelle campate che ovviamente ho evidenziato. Come ultima ipotesi, ma adesso su questo prima abbiamo anticipato che ci ragioneremo, faccio per ora l'ipotesi di diaframma rigido e poi discuterò di che cosa succede nel caso della presenza di diaframma flessibile. Quindi mi metto in un prospetto, in questo particolare mi rischiaccio tutto il 3D in modo tale da poter selezionare tutti i nodi dei diversi livelli, dei diversi piani e in un colpo solo vado a passare i piani rigidi, ovviamente uno diverso per ogni piano che ho selezionato, quindi in particolare i piani rigidi, il concetto di piano rigido lo sapete è un vincolo che si chiama diaframma, ormai presente da SAP da sempre, quindi dalle primissime versioni di SAP, introduco questo nome tipo piano rigido per il nome del diaframma, dico che è un piano che è ovviamente infinitamente rigido, quindi è come una membrana infinitamente rigida, cioè tutte le forze assiali per esempio degli elementi che giacciono su questo piano saranno ovviamente nulle perché tutti i nodi che giacciono su questo piano non possono né allontanarsi né avvicinarsi per definizione di diaframma, possono ovviamente muoversi tutti contemporaneamente nelle direzioni dei due tagli X e Y e nella direzione rotazionale RZ e poi si possono invece muovere liberamente in termini rotazionali RX e RY e in termini di spostamento UZ, quindi i gradi di libertà che blocca un diaframma sono gli X e gli Y e la RZ di ogni singolo nodo. Ovviamente avendo selezionato tutti i livelli contemporaneamente devo ricordarmi di spuntare l'ultima voce, cioè è vero che definisce automaticamente un piano rigido a ogni quota di Z che c'è presente nella selezione. Quindi chiaramente per distinguere questi vincoli, anche basta interrogare un nodo per capire che diaframma è inserito dentro, vedo che il primo diaframma si chiama PR underscore 3, il secondo si chiamerà PR underscore 6 e così via, quel numero 3, 6, 9, 12 non è altro che l'elevazione in metri dall'origine, quindi dallo 00. Quindi anche questa fase di modellazione è completata. Chiaramente adesso mi occupo della gestione del modello generale, quindi per esempio la definizione delle masse, noi sappiamo che abbiamo passato i carichi alla struttura, adesso sto dicendo, farò un'analisi sismica intesa come analisi spettrale, quindi chiaramente sarà basata tutta su un'analisi modale, io faccio una selezione dei carichi che ho inserito dentro e contemporaneamente stabilisco quali sono i fattori moltiplicativi di questi carichi per far diventare questi carichi massa, cioè peso sismico. In particolare tutti i permanenti, peso strutturale, qui dentro c'è il peso della struttura, qui c'è il permanente compiutamente definito che abbiamo passato a diversi livelli, qui c'è il non compiutamente definito e qua c'è l'accidentale. Ora mi devo ricordare in realtà, visto che ho definito un carico neve, di passare all'ultimo livello la neve al posto dell'accidentale, vedrete che correggerò questo dato, visto che ho replicato prima tutte le informazioni compresi i carichi che ho inserito a livello di piano 1. Dicevo, questi gamma sono tutti 1, tranne un fattore moltiplicativo del QK che dell'accidentale, che per norma l'NTC stabilisce che è lo PSI2I, cioè lo 0,3, quindi il 30% dei carichi accidentali. È chiaro che questo dipende dalle normative e dalla destinazione d'uso dell'elemento che sto considerando, del solaio che sto considerando. Quindi assegno su quest'area, per la correzione che dicevo prima, un carico neve per esempio di 1,3 kN al metro quadrato e poi vado a, anche semplicemente interrogando l'area, vado a rimuovere quello che è il carico accidentale che avevo precedentemente attribuito e quindi su quest'area è presente solo il G1, solo il G2 e solo il carico neve. Vedete che come vi faccio vedere notate che le finestre di SAP sono tutte annidate l'una dentro l'altra, quindi io ho modificato al volo i carichi direttamente nella finestra di visualizzazione degli stessi, quindi in sostanza senza dover ritornare nel menu di assegnazione e quindi attribuirlo, tasto destro sull'elemento carichi, vedo la lista, assegna carico e da lì ho accesso alle informazioni, quindi come quando per esempio definisco le sezioni, ho accesso alla possibilità di definire materiali e così via. Gestiamo le analisi e poi vedrete anche le combinazioni di carico per effettuare le verifiche. Allora partiamo da un approccio puramente lineare, come ho detto prima, i controventi sono da considerare che lavorano sia a compressione che attrazione, quindi particolari accorgimenti in termini analitici non devo porli. Ovviamente come ho detto prima discuteremo quando avrò per esempio dei controventi di Sant'Andrea. Senza entrare troppo nel dettaglio, per migliorare i risultati dell'analisi modale utilizzo l'algoritmo di Ritz, quindi l'algoritmo di Ritz consente, detto in soldoni, di approssimare e correggere l'errore che si compie in un'analisi modale diciamo trascurando i modi superiori, così si dice, cioè vuol dire che siccome io chiedo di calcolare in questo caso per esempio 12 modi con il metodo di Ritz, questi 12 modi sono calcolati, questi 12 autovettori e 8 valori sono calcolati in modo tale da riuscire a correggere l'errore che si commette nel trascurare dal tredicesimo modo fino all'ennesimo dove n sono il numero di gradi di libertà del sistema. Voi sapete che un sistema elementi finiti ha un certo numero di gradi di libertà da un punto di vista dinamico e sismico, noi stiamo nella fase di analisi modale e stiamo dicendo al programma di ridurre il grado di libertà generale del sistema e studiare la risposta dinamica della struttura utilizzando queste forme modali appunto. I metodi analitici sono due dentro SAP ma presenti in letteratura sono il metodo classico degli autovettori, quindi il primo degli autovalori, la prima opzione che c'era selezionata oppure il metodo dei vettori di Ritz. I vettori di Ritz si completano diciamo passando delle forme, delle forme di forza che io voglio andare a suggerire per correggere questi metodi, questi autovettori, queste forme sono semplici da passare sulle strutture perché sono delle accelerazioni, sono forme che sono prodotte da delle accelerazioni unitarie, quindi un metro al secondo quadrato, dirette lungo le tre direttrici principali, quindi UX, UY e RZ che è la rotazione sull'asse globale Z. Questo consente di attivare molta più massa nel minor numero di modi, consente di correggere sostanzialmente quei classici errori che normalmente si fanno con l'utilizzo dell'analisi modale di tipo tradizionale. A questo punto aggiungo delle analisi, in particolare l'analisi spettrale, però per farlo, prima di farlo devo andare a definire degli spettri, quindi delle forme spettrali, quindi nel menu di definizione entro nella definizione di funzione spettrale, trovo l'icona, il comando degli spettri, qua dentro ci sono tutte le diverse normative che dal punto di vista spettrale sono contenute all'interno di SAP, in particolare il codice italiano con la sua microzonazione che vuol dire che entro dentro con una posizione, longitudine e latitudine, entro dentro scegliendo un limite di salvaguardia della vita, in questo caso quindi uno stato limite da considerare, classe nominale, classe d'uso, vita nominale e così via. Diciamo tutti i parametri che servono a definire insieme al terreno, al profilo topografico o alla pendenza o all'altezza di cresta per nei casi di topografia con T3 e T4, consentono di determinare in automatico quelli che sono i parametri che poi sono sismogenetici, cioè che rappresentano i parametri di tracciamento della forma spettrale che andiamo a utilizzare. Uno dei parametri fondamentali ovviamente per gli spettri di progetto, lo sapete, è il fattore di struttura, qui non ho molto tempo per discutere sui fattori di struttura, lo facciamo spesso anche in altri webinar, per esempio quello sull'analisi pushover in cui andiamo con l'analisi pushover a stabilire, a calcolare quali sono i fattori di struttura di una struttura per esempio esistente. In questo contesto la cosa è molto semplice, ci si riferisce a un quadro normativo, immagino nell'esempio di trattare una struttura nuova, quindi in cui i dettagli strutturali consentono la scelta di, diciamo, dei fattori di struttura tabellati. Quindi in particolare la direzione del controvento presenta un fattore di struttura pari a 2, mentre nella direzione trasversale, quella diciamo in cui invece ho la presenza di telai, la struttura risulta essere più d'utile, quindi con un fattore di struttura maggiore, quindi per esempio in questo caso la normativa ci passerebbe 4 come fattore di struttura da poter utilizzare. Come ho detto prima vado a definire le forze sismiche, in particolare potrei dentro SAP definire automaticamente quella che è la statica lineare, quindi il metodo della statica lineare. Io ora sto utilizzando quello che è il metodo della dinamica lineare, quindi l'inserimento delle forme spettrali, come ho fatto a vedere prima, e anche delle analisi di tipo spettrale, quindi è un'analisi che si chiama response spectrum, è un'analisi ovviamente direzionale, io scelgo la direzione, in particolare scelgo per esempio per la direzione X un determinato fattore di scala, è un determinato spettro, questo fattore di scala è facile G, perché lo spettro come l'avete visto prima era uno spettro di tipo adimensionale, cioè era già diviso per G, quindi in questo caso per farlo tornare a essere un'accelerazione, io ho definito quello che è il suo fattore di scala, quindi il suo fattore di scala che quindi è G stesso, quindi l'accelerazione gravitazionale. Questa è per la direzione Y, quindi le due analisi sono state inserite distintamente, quindi ho inserito nella direzione X e Y, non due analisi spettrali. Allora, prima di svolgere le analisi e poi concentrarmi sulla parte di verifica, il vero nocciolo del webinar di oggi, parliamo un attimo della presenza di diaframmi flessibili, io nel caso avrei potuto avere per esempio nei diversi piani, andiamo sull'ultimo, così graficamente riesco a mostrarvi più chiaramente quello che bisogna fare, per esempio anche semplicemente per gestire carichi. Immaginatevi per esempio la possibilità di inserire la presenza, anzi di controventi che ci possono essere all'interno di determinate campate, questo a livello di piano, ovviamente si possono tracciare i controventi sui singoli campi, oppure qua avevo scelto di tracciarli geometricamente sulla base delle griglie, quindi delle campate che avevo definito precedentemente. In questo caso per esempio avrei inserito la presenza di più controventi di piano a seconda del caso nelle diverse direzioni che volevo. Un primo problema che si ha, ovviamente se si modella il controvento lo si fa nell'ottica di trascurare l'ipotesi di diaframma rigido, quindi la presenza, l'assenza di un diaframma rigido. Nell'esempio che noi stiamo per fare adesso c'è il diaframma rigido perché a livello di solaio immagino la presenza di una soletta collaborante più lata, cosa che poi dovrò tenere in conto anche nelle fasi di verifica e vi faccio vedere come, sia per limitare gli effetti di instabilità piana e oleriana, sia per limitare gli effetti di instabilità flesso-terzionale. Quindi il concetto è che invece in assenza di presenza di soletta, quindi l'ipotesi di diaframma elastico, cioè rigido nel senso non infinitamente rigido, quindi con la sua propria rigidezza e quindi deformabilità, per esempio una scelta potrebbe essere quella di modellare i controventi. Allora uno dei problemi che c'erano prima di questa versione sul modus operandi che ho definito prima era il fatto che la presenza di questi elementi controventanti andava a spezzare il carico, l'area di carico e quindi in questo caso addirittura siccome ho diviso non sulle singole, diciamo sui singoli campi, giusto per farvi notare la differenza, ve lo divido sui singoli campi, cioè sulle travi secondarie, quindi inserisco dei controventi diciamo sempre Sant'Andrea disposti su appunto su tutti i campi, quindi a ogni passo delle travi principali e delle travi secondarie. In questo caso l'algoritmo di ridistribuzione del carico mi individua delle zone, diciamo degli spicchi di carico che riesce a gestire e però erroneamente in questo caso andrebbe a ripartire il carico negli elementi diagonali che sono invece elementi che devono portare solo azioni longitudinali, non azioni indotte dal carico stesso. Quindi come si fa qui per correggere il problema? Semplicemente si va a dire a SAP che questi elementi strutturali non prendono carico, quindi c'è un'opzione di trasferimento del carico che dice che questo elemento non può prendere carico e quindi nella ripartizione di queste, facciamolo su tutti i controventi, nella ripartizione di questi carichi e quindi attraverso la gestione dell'area nulla vedrete che il carico torna a essere trasferito esclusivamente sugli elementi veri che portano il carico, cioè sulle travi principali e secondarie, senza il fatto, l'errore sostanziale che avevamo inserito prima, cioè di introdurre carico in questi elementi diagonali. Qui in sostanza vedete che il carico viene ripartito soltanto di nuovo sugli elementi come giustamente deve essere, sugli elementi longitudinali. Ora l'altra condizione in cui si può operare, cosa abbastanza comune nelle strutture in acciaio, è la presenza di diaframmi flessibili fatti per esempio attraverso solette, cioè immaginatevi sempre un solaio i-bond, quindi una soletta collaborante, però magari di una struttura non compatta in pianta, quindi non una struttura per esempio rettangolare o pseudo-rettangolare, ma immaginatevi una struttura fatta con pianta L o a ferro di cavallo, nella quale la deformabilità di piano non può essere trascurabile, quindi non può essere adottata l'ipotesi di diaframma rigido. Allora in tutti questi casi il consiglio che vi do, ma la procedura secondo me è semplice da mettere in pratica e quella che più si avvicina alla realtà da un punto di vista di comportamento sia statico che sismico, è quella di definire un elemento bidimensionale che si utilizzerà ad hoc per i piani di tipo membranale, cioè in soldoni si va a sostituire all'area nulla una membrana che quindi è un elemento finito bidimensionale che però ha sola rigidezza nel proprio piano e che questa membrana eserciterà appunto l'ipotesi di controventamento. Ovviamente questa membrana la si attribuisce all'area che ho definito prima e poi si va a spezzare quest'area in corrispondenza di tutti i nodi che fanno parte della geometria, quindi basta selezionare, andare sul menu edit, editare, addividi e dividere l'area in funzione dei nodi selezionati. In questo caso avrebbe disegnato tante membrane quanti campi mi interessa anche se la geometria è complessa e questo fa sì che io possa tenere in conto di una deformabilità di piano anche per esempio per l'ipotesi di una soletta sempre di ripartizione che abbia una rigidezza però finita e non appunto che sia considerabile infinitamente rigida e questo anche in questo caso avrei tolto il diaframma il diaframma rigido quindi avrei non avuto la necessità di attribuirlo come vincolo interno. Questo per appunto diciamo discutere della differenza tra piani rigidi e piani deformabili. L'azione sismi l'abbiamo passata, nell'elenco che tra l'altro vi avevo mandato, avete visto sulla pubblicazione del nostro sito, sul GoToWebinar e anche i newsletter, negli argomenti di oggi c'era anche l'inserimento automatico del vento, ne faccio traccia. Allora più di uno perché si ragiona normalmente per scenari di vento, quindi voi sapete che le diverse normative attribuiscono una direzione principale del vento e poi quindi un angolo sostanzialmente di ingresso sul fabbricato e poi gli effetti locali sugli elementi di cladding, cioè sugli elementi di baraccatura o effetti globali sull'intera struttura. In automatico SAP gestisce questi carichi sulla base di una normativa, quindi selezionando wind, quindi selezionando vento, tra le normative compare di nuovo il neurocodice 1 ma anche l'NTC e introducendo un vento secondo NTC c'è la possibilità di agire attraverso questo comando, questa finestra, sui parametri del vento. Allora il vento può essere attribuito in due modi, o come forza concentrata sul diaframma, quando la struttura diaframma, a quel punto l'area di influenza di ogni piano è l'interpiano, sono i due interpiani superiore e inferiore di ogni piano. Oppure cosa molto interessante è la possibilità di attribuire il vento direttamente da aree, in questo caso si può addirittura passare il concetto di vuoto per pieno, cioè passare gli elementi di pannellatura nella struttura o addirittura gli elementi di baraccatura e su di essi gli elementi di pannellatura, quindi un unico modello inserire dentro sia gli effetti sulle baraccature che sulla struttura globale. E attraverso l'attribuzione di aree è possibile andare a attribuire ad ogni area i diversi fattori di esposizione, quindi diversi cp, che ovviamente dipendono dalle diversi scenari che ho detto prima. Per questo vi rimando a una guida, una guida che trovate sul nostro sito, quindi è scaricabile nella parte di download generale del nostro sito, dove c'è l'attribuzione automatica dei carichi da vento, sia in SAP che in ETABS, la procedura è la stessa e vi fa un passo passo, questa è fatta con l'Eurocodice 1, però la procedura è identica con l'NTC, cambia solo alcuni parametri di generazione del vento, ma non cambia il concetto. Nel caso, come ho detto prima, nella prima opzione di passare il vento secondo diaframma vi fa vedere che cosa vuol dire, cioè quel mezzo interpiano superiore e inferiore che vi citavo prima, è una forza con un certo angolo che si attribuisce al diaframma, oppure se la struttura ha gli elementi bidimensionali, vi dice che poi possono essere delle aree nulle disposte in facciata, come abbiamo fatto prima, abbiamo disposto delle aree nulle su diversi livelli orizzontali, quindi su diversi solai per gestire carichi verticali, voi potete definire delle aree nulle, attribuire delle aree nulle al modello per gestire la parte di baraccatura o la parte di pannellatura, su queste si va a inserire i CP e automaticamente, qui c'è anche l'esempietto come detto prima nel passo passo, automaticamente nelle diverse zone andrebbe a considerare il vento corrispondente, quindi in questo caso questa è una vista in pianta di un capannone in cui il vento incidente in una certa direzione e si hanno i diversi CP variabili appunto su punti che costituiscono le due falde, questo ovviamente dipendente proprio dalle regole secondo che le normative ci passano, quindi sia l'eurocodice che uno sia l'NTC. Ovviamente la distribuzione della forma è automatica sulla base dell'altezza, quindi sulla base di z e c'è anche il calcoletto manuale, il calcoletto, il calcolo insomma che viene eseguito in automatico dal codice da SAP, quindi con la generazione delle forze e anche il confronto, quindi sul nostro sito trovate questo passo passo per l'inserimento delle azioni del vento. Funziona anche per elementi strutturali aperti, quindi tralicci, avete un po' forse intravisto mentre scorrevo il pdf, in cui viene caricato l'elemento strutturale sulla base della reale larghezza che l'elemento strutturale ha, quindi anche per appunto l'ipotesi di elementi tralicciati, quindi elementi a traliccio. Ok, quindi una volta gestite, definite quelle che sono le analisi, quindi la procedura di analisi, vado a definire le combinazioni atte all'esecuzione delle verifiche. In questo esempio utilizzo il nostro plugin che si chiama combinator, che altro non è che corrispondente all'eurocodice 0 oppure all'NTC, metodo che attribuisce, in sostanza si attribuisce in questa fase all'etichetta di carico, cioè al nome che avevo dato prima ai diversi carichi elementari, attribuisco una tipologia, mentre l'etichetta è un termine, è una stringa dell'utente, la tipologia è un nome che c'è contenuto all'interno delle normative, quindi dell'NTC o dell'eurocodice 0, che in questo caso, che su questo contesto sono perfettamente identici. C'è la possibilità quindi di gestire le destinazioni d'uso, il fatto che la neve, diciamo se la struttura è sotto mille metri o se la struttura è sopra mille metri, quindi cambiano gli psi corrispondenti per la generazione delle diverse combinazioni di carico. Queste sono le azioni sismiche, quindi nella direzione X, nella direzione Y e poi abbiamo fatto una serie di regole per la generazione delle combinazioni, su questo rimando al manuale di VIS, del Combinator, per la generazione appunto delle combinazioni. È comunque abbastanza semplice l'interfaccia e insomma l'utilizzo risulta praticamente immediato, c'è la gestione dei carichi variabili intesi come indipendenti o correlati, tutti i termini normativi, c'è la definizione automatica delle combinazioni per le verifiche strutturali, per quelle sismi, per l'equilibrio, geo, fondazionali, le caratteristiche frequenti quasi permanenti, che tra l'altro normalmente il Combinator lo vediamo bene quando facciamo il webinar sul cemento armato. Ha creato le combinazioni, quindi io vado a vederle dentro SAP, ci sono le combinazioni che sono state create sulla base della permutazione dei diversi gamma e dei diversi psi per ottenere tutte le possibili combinazioni. Ok, allora fatto questo gestisco la parte di verifica. Allora sulla parte di verifica devo ovviamente settare la normativa, le normative che ci sono all'interno di SAP sono tantissime, quindi consente l'utilizzo del programma all'interno di uno scenario internazionale ampio, quindi ci muoviamo sulle principali normative americane, canadesi e ovviamente gli eurocodici, indiane, ovviamente italiane, neozelandesi e quant'altro, quindi diciamo ci sono tutta una serie di normative tra cui per esempio ovviamente c'è l'NTC, quindi setto i parametri che voglio della normativa, su questo rimando sia al manuale sempre scaricabile nel nostro sito, sul manuale delle verifiche, oppure addirittura il manuale che c'è dentro la cartella di installazione di SAP che racconta sostanzialmente, e questo è in inglese quello di SAP, invece il nostro scaricabile da internet in italiano, racconta o descrive tutta la procedura sia per la generazione delle combinazioni, sia per la classificazione delle sezioni, sia per i criteri di verifiche si utilizzano per esempio in condizioni di resistenza o di instabilità, perché l'acciaio come sappiamo è governato prevalentemente dall'instabilità, o addirittura nei confronti dei meccanismi che si utilizzano e si devono utilizzare nelle condizioni sismiche, quindi sia da un punto di vista di prescrizioni come la classificazione delle sezioni in funzione del fattore di struttura, oppure la scelta di fattori di sovraresistenza, la scelta della gerarchia delle resistenze, quindi il metodo della gerarchia resistenze, tutte procedure che ci sono all'interno di SAP e che sapendo sostanzialmente come sono state implementate e come agire sulle diverse interfacce si riesce a governare le fasi di verifica. Prima di lanciare le verifiche devo fare delle procedure diciamo intermedie, cioè di esecuzione, in particolare devo scegliere quali combinazioni mandare in verifica, quindi in particolare tutte quelle che abbiamo definito noi, le verifiche possono essere fatte sia in termini di resistenza che in termini di deflection, quindi di deformazione, in questo contesto io farò verifiche in termini di resistenza. L'altra cosa importante da fare è agire, ancora dobbiamo correggere una cosa che avviene, che c'è sulle travi, quindi vado a selezionare quelle che sono le travi principali e secondari e vado a attribuire questa proprietà che adesso dico. Ovviamente come detto prima le verifiche di resistenza devono essere condotte nei confronti della non solo della mera resistenza, cioè in sostanza la tensione che si otterrebbe facendo N su A più gli M2 e M3 su W2 e W3, ma chiaramente nei confronti dell'instabilità c'è per esempio nel 10.011 c'era il metodo omega o l'omega 1 a moltiplicare i momenti equivalenti per l'instabilità flesso torsionale, ci sono appunto criteri che tengono conto dell'instabilità assiale, dell'instabilità flesso torsionale dei singoli elementi strutturati. Allora in questo modello nella struttura che ho descritto ci sono dei vincoli che ancora non ho passato, che come ho detto prima vanno a impedire questa instabilità assiale flesso torsionale, sono i vincoli di solaio, quindi immaginiamo che ci sia la soletta high bond che ho descritto prima, che le travi siano fiolate, quindi le travi sono impedite all'instabilità per effetto assiale. Ora c'è da dire che l'instabilità per effetto assiale queste travi non potranno mai averlo, perché come ho detto prima le travi giacciono su un diaframma rigido e quindi le travi non potranno mai essere caricate da sforzo assiale. Però instabilità flesso torsionale sì, cioè per carichi che vanno verso il basso, voi sapete che la piatta banda compressa è quella superiore, essendo la piatta banda compressa quella superiore, essendo questa connessa attraverso i pioli a una soletta che ne impedisce la rotazione, quindi impedisce lo svergolamento della trave, prima, principale o secondaria, diciamo è appunto la trave, avendo proprio la piatta banda compressa bloccata, è incapace di instabilizzarsi dal punto di vista flesso torsionale, quindi flesso torsionale. Però questo lì va detto, noi non abbiamo detto, noi abbiamo modellato un vincolo di diaframma, non abbiamo detto che qua c'è un qualcosa che blocca le travi e questo lo si fa attraverso un comando solo che si chiama lateral bracing, che agisce sui diversi elementi strutturali selezionati, in questo caso sulle travi principali e secondari, e questo lateral bracing è importante perché è possibile attribuire dei vincoli puntuali all'instabilità flesso torsionale, oppure stabilire un vincolo uniforme, come per esempio la soletta superiore, ipotizzata con una piolatura a passo pseudocostante o comunque talmente fitto da impedire un'instabilità flesso torsionale. Questa piolatura uniforme, questa lateral bracing di tipo uniforme, si dice, lo si passa in questo modo, cioè ogni frame che ho selezionato tra l'inizio, quindi il punto zero e il 100% della sua lunghezza, quindi l'estremità di destra, questa è l'estremità di sinistra, questa è l'estremità di destra di ogni frame, alla piatta banda superiore, quindi il top, vedete c'è la possibilità di bloccare solo selettivamente la top, la bottom o entrambe le fiatta banda, quindi si può agire con questo lateral bracing anche per tenere in conto per esempio della baraccatura, degli effetti stabilizzanti che la baraccatura dà agli elementi verticali, per esempio immaginatevi una baraccatura diciamo di parete in cui il pannello, un pannello sandwich, un pannello rigido sia capace di bloccare l'instabilità flesso torsionale per esempio delle colonne, quando il vento imprime in una certa direzione e lasciar libera quando imprime nell'altra, cosa vuol dire? Dipendentemente da qual è la piatta banda compressa, cioè se la piatta banda compressa è quella dalla parte della connessione e il vincolo produce un effetto benefico nei confronti della flesso torsione, se invece la piatta banda compressa è quella libera dall'unione, cioè immaginatevi in questo esempio un carico che dal basso vada verso l'alto, come per esempio può essere il vento, l'insacca all'interno della struttura su una struttura aperta, è chiaro che il vento in depressione manderebbe in compressione la piatta banda inferiore e questa non risulta essere connessa alla soletta, quindi l'instabilità flesso torsionale è giusto che sia limitata in modo diverso. Quindi in questo caso attribuisco questo vincolo di lateral bracing a tutte le piatta bande superiori e a tutte le estremità tra l'inizio e la fine di ogni frame e questo vedrete che bloccherà l'instabilità flesso torsionale. Adesso se non ho commesso errori nella modellazione dai vincoli a terra li ho lasciati volutamente delle cerniere, faccio a mente locale sul modello ma penso di aver passato grossomodo tutte le informazioni che mi occorrono. Dicevo la procedura adesso è una procedura iterativa perché come vi ho detto dall'inizio di questo modello ogni elemento strutturale ha la caratteristica di essere pescato da una lista, questo vuol dire che se vado a vedere attualmente le sezioni che ci sono in uso nei diversi punti della struttura vedo che ogni elemento trave è fatto con una IP 300 però tra parentesi è indicata la lista di cui fa parte e ogni elemento colonna tutte uguali per ora sono delle H e B del 300 e sempre c'è tra parentesi la lista colonna, ovviamente la stessa cosa vale per il controvento. Qual è questa sezione che viene presa di partenza? La sezione di una lista che viene presa di partenza è la sezione intermedia, vedete la colonna H e B 300 è la mediana, in realtà questa era pari quindi viene presa la mediana meno 1 cioè quella che sta sopra alla media della sezione, quindi la sezione media della lista che io ho passato e questo è solo il punto di partenza dell'algoritmo iterativo che vedrete che andrà a ottimizzare la struttura. Perché iterativo? Perché la struttura è iperstatica e cambiando una sezione per un motivo o per un altro, adesso vedremo quale, ovviamente devono cambiare le ridistribuzioni delle forze che gli elementi strutturali si scambiano fra di loro. Ma poi anche banalmente vi faccio notare una cosa, vedrete che durante l'analisi e durante la verifica la struttura modificherà gli elementi, cioè il SAP modificherà gli elementi strutturali pertanto la loro rigidezza, quindi anche banalmente il loro periodo. Cioè vuol dire che la struttura avrà dei periodi via via diversi tra una fase e l'altra del processo di ottimizzazione, ma se ha periodi diversi anche la domanda sismica in termini di forza sarà diversa, perché nello spettro si entra dentro in un punto diverso, quindi l'analisi spettrale, ovviamente che non è altro che utilizzando il metodo della sovrapposizione modale, non è altro che la determinazione delle forze a diversi livelli, produrrà delle forze diverse in tutti gli step dell'ottimizzazione, perché il periodo della struttura appunto varia, quindi la domanda sismica varia. In questa fase è stata analizzata quindi con la sezione media, la prima procedura che, la prima volta che eseguo le verifiche, ovviamente tutte le sezioni saranno da cambiare o quasi tutte, perché a meno che la sezione media non sia già ottimale da un punto di vista di resistenza, per ora sto ottimizzando la resistenza, dopo vedrete ottimizzare in termini di periodo o in termini di deformazione. Quindi è chiaro che a meno che l'analisi non abbia già colto per puro caso la sezione giusta, cioè la sezione di partenza sia già giusta nei confronti della verifica, giusta significa prossimamente prossima 1, cioè al 100% di fattore di utilizzo, quindi vuol dire una sezione tirata per i criteri di resistenza. Allora tutte le volte che non sarà così la sezione deve essere sostituita, infatti per esempio questa trave da IP300 mi viene suggerita una trave IP220, questa colonna al posto dell'HIB300 viene suggerita un HIB del 240 e così via. Allora il processo di ottimizzazione non è arrestato perché come ho detto prima l'analisi e le verifiche sono state fatte con sezioni diverse, quindi è chiaro che la procedura di analisi deve essere reiterata perché le sollecitazioni cambiano, quindi io rieseguo l'analisi, quindi vedete visto non ho slucchettato il modello, ho semplicemente rieseguito l'analisi, questa volta anche i periodi per esempio sono cambiati ed il periodo è ancora sarà inaccettabile perché verificare questa struttura nei criteri di resistenza produce una struttura molto esile perché le forze in gioco sono modeste, anche nei confronti dell'azione sismica, quindi la struttura avrà un problema deformativo più che un problema di resistenza, evidenziato già in fase di analisi modale con periodi che ovviamente sono inaccettabili perché molto alti. Io riesego la verifica, vedete che il verificatore passa e rassegna la struttura e ovviamente ancora una volta molti elementi dovranno essere modificati, perché molti? Perché le sollecitazioni sono cambiate, magari in questo caso presente dal punto di vista di azione sismia si sono ridotte, quindi infatti meno elementi rispetto a prima dovranno essere cambiati, ma la procedura è iterativa, è iterativa e convergente, cioè arriva alla convergenza a un determinato punto in cui la struttura sia da un punto di vista di analisi che da un punto di vista di verifica è fatta con le stesse sezioni. È chiaro che questo processo di ottimizzazione fatto così è già interessante ma è molto poco utilizzabile perché ogni punto della struttura avrebbe magari sezioni diverse, basta pensare ad esempio a cambi sezionali, ora in questo caso le forze sono talmente modeste che tutte le sezioni hanno grossomodo le stesse sezioni, però potrebbe essere che da un punto di vista di verifica ogni punto della struttura risulta essere distinto dal resto e questo è inaccettabile. Allora la procedura di verifica e di ottimizzazione può essere governata e diciamo migliorata da questo punto di vista da voi, cioè dall'utente stesso. Procedendo per gruppi, cioè vuol dire che la verifica o meglio l'ottimizzazione può essere fatta attraverso la definizione di gruppi, per esempio immaginatevi che per esigenze costruttive le colonne dei controventi dei primi due piani debbono essere tutte uguali perché le realizzate tutte di un tiro, cioè la colonna reale, l'elemento strutturale, il cambio sezione avviene non al primo livello ma avviene al secondo. Allora come si fa? Si definiscono i gruppi, quindi semplicemente si selezionano determinati elementi strutturali, quindi in questo caso per esempio le colonne che ho citato prima, scusate, le colonne che ho, andiamo su un piano se no è talmente piccolo lo zoom che non riuscivo a selezionare, quindi seleziono le colonne che ho definito prima, ovviamente le posso fare tutte insieme e attribuisco queste ad un gruppo, quindi assegno questi elementi ad un gruppo e così posso procedere sulle travi, su gli elementi che costituiscono la struttura, cioè divido la struttura per gruppi. Allora successivamente a questa fase, ma è veramente triviale, semplice e veloce da eseguire, quindi la divisione a gruppi della struttura, io poi dopo nella fase di ottimizzazione, cioè nella fase di design in realtà della struttura, dico di procedere a gruppi e questo fa sì che all'interno del gruppo viene scelta la condizione peggiore, cioè se voi all'interno di un gruppo passate degli elementi strutturali, 4 per esempio, che 3 hanno la necessità di essere un IP300 e 1 ha la necessità di essere un IP400, ovviamente tutte e 4 le sezioni verranno poste come IP400, quindi è chiaro che va a imbrigliare la procedura di ottimizzazione e quindi la limita l'ottimizzazione, ma produce una struttura perfettamente realizzabile perché secondo i criteri vostri, cioè secondo i criteri del progettista, cioè di omogenizzazione, quindi si ottimizza ma si omogenizza anche nei diversi casi. Ok, allora la procedura di ottimizzazione in termini di resistenza, l'avete vista, è semplice, poi si possono mettere altri target di ottimizzazione, un target per esempio è quello dello spostamento, quindi diciamo in termini di spostamento io posso passare per esempio che lo spostamento dei nodi che li sto selezionando, quindi per esempio i nodi che costituiscono diversi telai abbiano un drift di piano non superiore a una certa quantità, quindi vuol dire che io passo in sostanza come vincolo la scelta di sezioni in modo tale che lo spostamento in una direzione o nell'altra a livello di interpiano, quindi a livello di drift di piano, sia inferiore di una certa quantità. Allora questo che cosa suggerisce? Suggerisce le verifiche automatiche al danno? Noi sappiamo che per verificare una struttura al danno è necessario andare a controllare per esempio gli spostamenti di interpiano, ovviamente fatti con spettri al danno, io faccio un'analisi con spettro al danno, quindi passo un'azione calcolata al danno e poi faccio una verifica a livello di ottimizzazione dicendo che durante l'analisi al danno, quindi con le azioni del danno, gli spostamenti di interpiano devono essere inferiori a una certa quantità e automaticamente avrei visto la struttura ottimizzata in termini di resistenza e ottimizzata in termini di deformazione di interpiano. Oppure l'altro comando estremamente comodo è quello di limitare per esempio il periodo, avete visto che questa struttura ha un periodo di 1,6, proviamo a mettergli una riduzione drastica del periodo, quindi fisso il primo periodo da 1,6 a 0,8, quindi sto dimezzando il periodo che grosso modo sarà quello che io voglio dare, qui ovviamente scelgo il numero di modo che voglio plafonare, che voglio limitare, mi indica il periodo corrente, il periodo target. Rieseguo l'analisi, in realtà l'analisi è già eseguita perché per ora non ha ancora cambiato niente, devo procedere alla verifica, quindi adesso la procedura di verifica non controlla solo la resistenza, controlla anche il periodo, oppure se avevo imposto anche limiti di deformazione controllava anche gli interpiani, quindi le deformazioni. Potrebbero essere anche deformazioni verticali, quindi le frecce, le deflection, quindi diciamo si ottimizza nel contempo, anche per effetto dei carichi verticali. Dicevo, se io chiedo a SAP quali sono le sezioni che in analisi e in verifica sono diverse, ovviamente mi dirà che tante sezioni devono essere modificate, perché per limitare il periodo, vedete il periodo non è ancora cambiato, giustamente perché non ho ancora eseguito le analisi, ho solo eseguito le verifiche, nelle verifiche sostituisce i telai, quale elemento ha sostituito? Ha sostituito queste colonne, quelli selezionati e alcune delle travi, cioè sta iterativamente agendo in termini di rigidezza nei confronti della deformazione trasversale. È molto interessante vedere qual è la procedura che c'è dietro, se avanza un po' di tempo fra un attimo ve la spiego. Il primo tentativo ancora non è riuscito, cioè il periodo sta via via scendendo, quindi da 1,6 e 68 è passata 1,37, quello che è, quello che era. Rieseguo le verifiche, ovviamente la procedura continuerà a reiterare, fin tanto che il periodo non arriva a essere quello passato. È chiaro che se ho passato una geometria, in termini di sezioni, troppo esile non riuscirò ad arrivare al target che ho imposto, cioè se le sezioni sono incapaci di dare una rigidezza tale da scendere a periodi che io ho attribuito essere di 0,8 come limite, è chiaro che la procedura potrà modificare quanto vogliamo le sezioni, ma non riuscirà ad avvicinarsi, non riuscirà ad raggiungere l'obiettivo, quindi è chiaro che dipende dalle caratteristiche di sezioni e anche da quanto sono stato severo nell'attribuire il periodo di partenza. Notate che una struttura a telaio normalmente ha un periodo intorno a 0,25 secondi per piano, quindi già un secondo di periodo questa struttura è già tarata con una rigidezza sufficiente. Quindi è chiaro che in questo caso la procedura di verifica, cioè di iterazione, si arresta solo se appunto siamo riusciti ad arrivare a convergenza. Vedete il periodo si sta drasticamente avvicinando al target che abbiamo imposto e ovviamente lo fa in modo selettivo perché è chiaro che essendo appunto una struttura iperstatica di volta in volta va a toccare elementi che ritiene opportuno, cioè è inutile irrigidire più di tanto le travi, se poi le colonne come rigidezza di nodo non riescono a irrigidire sufficientemente la struttura. Quindi chiaramente, non ricordo se in questa fase ho già fatto le verifiche. Chiaramente la procedura iterativamente va a modificare le sezioni che secondo il principio dei lavori virtuali produce il maggior beneficio nei confronti del vincolo che io ho imposto. Quindi in questo caso il vincolo imposto era in termini di rigidezza trasversale del sistema sismo resistente. Ecco che ci stiamo arrivando, ovviamente il prossimo giro arriva a 0,8 secondi che ho imposto. Dicevo è molto interessante vedere qual è il ragionamento che c'è dietro, cioè come SAP riesca a scegliere quali sono gli elementi da toccare che producono il miglior beneficio nei confronti della condizione imposta. In questo caso ho definito un'azione sismica, sto definendo un'azione sismica nella direzione Y, un po' con il metodo della statica equivalente. Questo lo faccio per uno scopo, lo faccio perché per esempio attraverso questa forza arbitraria, in questo caso, che io ho introdotto dentro, posso interrogare in SAP e dirgli quale elemento è meglio andare a toccare per produrre il beneficio che io voglio ottenere, cioè in sostanza quale elemento andare a toccare per frenare la struttura in direzione trasversale e quindi in direzione del sistema sismo resistente fatto a telaia momento. Questi numerini che vedete qua sono il prodotto dell'utilizzo dell'algoritmo, dicevo prima, è il lavoro virtuale normalizzato a 100, quindi l'elemento strutturale che ha questo fattore scalare, il lavoro virtuale è semplice perché è forza per spostamento di una determinata analisi, quindi domanda assiale, domanda flessionale nella direzione 2 e nella direzione 3. Come vedete, quale elemento produce il raggiungimento dell'obiettivo preposto? Sicuramente la rigidezza di questa trave, quindi questo numero che è appunto normalizzato a 100, quindi l'elemento che ha un numero maggiore del concetto dei principi lavori virtuali è l'elemento che per prima dovrà essere modificato, quindi nel caso in cui vado a rifare, riprocedo nella riesecuzione delle verifiche e mi modificherà quel profilo appunto che ha questo principio di lavori virtuali maggiore e quindi ha un'influenza in modo maggiore per il raggiungimento dell'obiettivo preposto. Ok, quindi anche la parte di ottimizzazione l'abbiamo vista, già che sono in questa fase poi per le verifiche, entro nel dettaglio di alcune verifiche e quindi per la determinazione lunghezze libe di inflessione torno tra un attimo, sporco un po' il modello, tanto abbiamo lo stesso modello già salvato, diciamo quello preventivamente preparato per oggi. Lo sporco perché voglio andare a inserire all'interno di questa struttura di elementi Sant'Andrea, quindi elementi controventanti a diagonale tesa attiva. Per farlo sono nel 3D, avete visto ho selezionato questi elementi di controvento, mi sposto sul primo piano, quindi sul diciamo il primo prospetto per esempio o questo e introduco dei controventi, ovviamente potrei, dovrei andare a attribuire una sezione diversa, questa è un WPN, non utilizzerò mai un WPN per un controvento Sant'Andrea, a meno che non voglia dare una forte rigidezza anche all'asta compressa, chiaramente di norma si utilizzano degli L, degli WPN singoli, oppure se la necessità di rigidezza lo richiede anche dei doppi profili. Però quello che mi interessa adesso discutere non è tanto la geometria della sezione del controvento da attribuire, quanto la procedura da mettere in atto affinché questo controvento lavori solo teso. Allora per farlo si disegnano questi elementi, si selezionano e si attribuisce una caratteristica all'elemento asta che si chiama Tension Comprension Limits. Lo riapro perché mi è scappato il click, non ho fatto vedere davvero. Questa quindi opzione è contenuta all'interno della finestra di assegnazione, delle caratteristiche di assegnazione. E c'è questo Tension Comprension Limits che attribuisce proprio questo, cioè un limite di compressione. In particolare per esempio attribuisco un limite di compressione che è nullo, cioè pari a zero. Allora proviamo a mettere un'azione, quindi ovviamente fare anche un'analisi per esempio statica equivalente che rappresenta l'azione sismica nella direzione X. Ovviamente non mi interessa anche sul come mettere le stati equivalente, trovate la guida sul nostro sito, quindi non perdo tempo adesso su come andare a inserire i dati di una statica equivalente. Tuttavia insomma vi faccio notare che ci sono dentro ovviamente come per il vento, anche per l'azione sismica, già le normative Eurocodice 8 e NTC 2008, pertanto c'è già la finestrella corrispondente per inserire dentro in automatico le forze con il metodo della statica lineare anche nei confronti della nostra normativa. Quindi adesso non entro in quel dettaglio. Però invece voglio analizzare il concetto di compressione. Avete visto io ho messo la compressione nulla, sblocco tutte le analisi, cioè impedisco a tutte le analisi di girare, tranne l'analisi in direzione x per ora, quindi eseguo più velocemente questo genere di analisi. Se vado a vedere la deformata ovviamente mi dice poco in termini di questo concetto, ma se vado a vedere lo sforzo assiale noterò che quell'opzione che gli ho detto non l'ha ancora messa in conto, cioè noterò che lo sforzo assiale dei controventi è sia teso che compresso, cioè gli elementi strutturali che io ho detto che devono lavorare a solo tesi in realtà lavorano anche compressi. Perché? Perché escludere un elemento strutturale da una matrice di rigidezza dipendentemente dalla sua sollecitazione, cioè cosa vuol dire? Se l'elemento entra in compressione deve essere trascurata la sua rigidezza, cioè deve essere rimosso dal sistema di equilibrio e quindi dal sistema di rigidezza, quindi della matrice di rigidezza. Allora questo concetto è un concetto che lega la matrice di rigidezza, quindi la rigidezza dipendentemente dai carichi, ovvero è un concetto di analisi non lineare. Quindi è chiaro che la possibilità di agire come limite di compressione nullo ai diversi elementi strutturali è governata dal fatto che quell'analisi o quelle analisi che stiamo vedendo devono essere analisi non lineari. Per farlo è semplice, basta andare nel menu di analisi e spuntare l'opzione non lineare, tutte le altre voci le lascio stare, non vado a introdurre non lineità di tipo geometrio, più delta, più grandi spostamenti eccetera, di cui ovviamente vado a trattare nei webinar ad hoc su questo genere di analisi, ma semplicemente in questo contesto mi è sufficiente dire che questa è un'analisi non lineare. Rieseguo la procedura di analisi e come vedrete adesso l'elemento lavora solo teso, cioè la compressione si è azzerata, quindi le diagonali, le uniche diagonali attive sono quelle in trazione, quelle in compressione, lo sforzo assiale risulta essere nullo. Quindi come si fa questo in una struttura per esempio capannone? Tutte le analisi devono essere non lineari? Beh direi di no, essenzialmente le forze che vanno a caricare gli elementi di controvento sono le forze orizzontali, perché sto parlando per esempio di controventi di parete, sono le forze sismiche e sono le forze vento, quindi chiaramente questo genere di forze in analisi sismica, l'analisi vento deve essere condotta come un'analisi non lineare, tutte le altre potrebbero anche essere lineari, ma soprattutto per questo genere di non linearità possiamo far valere il principio di sovrapposizione degli effetti, cioè sostanzialmente possiamo combinare fra di loro i risultati delle analisi come abbiamo fatto prima, cioè utilizzando l'escamotage di realizzare delle combinazioni, l'abbiamo fatte all combinator ma non la vieta di farle a mano, delle combinazioni diciamo che sono somma lineare dei risultati delle diverse analisi e questo consente appunto di utilizzare il principio di sovrapposizione degli effetti o meglio un po' un cane si muore della coda, diciamo che l'utilizzo di combinazioni lineari è consentito solo perché si può utilizzare il principio di sovrapposizione degli effetti, è una condition sine qua non, cioè in sostanza soltanto grazie a questo criterio è possibile combinare le forze fra di loro. Allora il ragionamento è questo, siccome i sistemi controventanti sono disaccoppiati dei sistemi verticali, detto in altre parole vuol dire che il controvento serve a forze orizzontali, la struttura verticale serve per i carichi verticali, quindi le colonne, le travi, gli elementi diciamo anche che costituiscono i controventi ma che non sono i diagonali portano il carico verticale mentre gli elementi diagonali portano solo il carico orizzontale, vuol dire che le analisi fra di loro sono disaccoppiate, cioè un'analisi verticale difficilmente va a ricaricare, a parte il peso proprio, va a ricaricare il controvento in termini assiali. Quindi questo vi consente di spuntare, di poter spuntare tutte le analisi che abbiamo definito come analisi statiche non lineari, con la stessa procedura che ho seguito per la statica e poi dopo combinare fra di loro gli effetti. L'unica attenzione che ovviamente vi pongo di seguire, ma non io ma il ragionamento che lo impone, è quella che se io definissi una combinazione prendendo i risultati dell'analisi non lineare, questa qx che ho fatto, mettendoci dentro un moltiplicatore negativo, questo tutte le volte che si fanno le combinazioni, ci possono essere questi casi, immaginate che il vento, normalmente il vento x e il vento meno x sono quasi imparentati, oppure il sismo ancora di più, in direzione x in direzione meno x o y meno y, cioè normalmente si opera in termini di moltiplicatore esterno. È chiaro che se io vado a fare una cosa del genere, siccome intrinsecamente, per come le ho definita prima, non vale il principio di sovrapposizione degli effetti, cioè non posso moltiplicare per meno 1 i risultati di un'analisi non lineare, altrimenti quello che in questa analisi era trazione, quindi la sollecitazione di trazione, in questa combinazione, avendo messo meno 1, diventa l'effetto opposto, quindi diventa pura compressione, quindi è chiaro che questo non possa in realtà seguirlo, quindi questa strada non posso percorrere, quindi attenzione, tutte le volte che si deve utilizzare e nell'acciaio spesso diciamo un'analisi non lineare per effetto di elemento solo teso o solo compresso, questo in generale è solo teso, chiaramente non si può moltiplicare per meno 1 i risultati di una determinata analisi. Bene, a questo punto questo lo chiudo, apro, cioè tengo aperto solo quello di partenza e mi concentro sugli altri aspetti di cui dovevo parlare, in particolare le verifiche di resistenza e le verifiche delle connessioni degli elementi strutturali. Allora le verifiche di resistenza, diciamo, ho dato ampio spazio nel webinar precedente, quindi nei webinar precedenti tra l'altro di fine luglio proprio sulle strutture in acciaio, quindi oggi voglio dare un po' più spazio sulla verifica dei nodi. Sulle resistenze dico questo, tanto vi mando anche una presentazione che questa in PowerPoint, questa in realtà è quella che utilizzo per spiegare in realtà gli approcci alle analisi di instabilità, quelli un po' più evoluti come l'analisi P-Delta, i grandi spostamenti o l'analisi di buckling, quindi l'approccio agli autovalori per studiare il fenomeno dell'instabilità. Tuttavia in questa, diciamo, in questa slide c'è anche l'approccio tradizionale che invece è quello che stiamo seguendo adesso, che è quello che in letteratura si chiama del metodo dell'effective length, cioè l'effective length method, cioè il metodo basato sulle lunghezze effettive degli elementi strutturali, cioè sulle lunghezze libra di inflessione. Questo effective length method si basa su due aspetti. Allora, partiamo da una condizione abbastanza elementare, un elemento di tipo euleriano, per esempio un portale come questo. Un portale, questa struttura è definita come definibile, come struttura a nodi spostabili. Ora, quanto vale la lunghezza libera di inflessione delle colonne? Concentriamoci sulle colonne, immaginiamoci siano compresse per effetti dei carichi verticali, lo saranno per effetti dei carichi verticali. Quanto vale la lunghezza libera di inflessione di questa colonna? Rapportata alla sua lunghezza. Cosa vuol dire? La lunghezza libera rapportata alla sua lunghezza è il fattore beta. Adesso utilizzo, diciamo, blocco note per scrivere le formule che normalmente sappiamo che si utilizzano. Noi sappiamo che la lunghezza libera di inflessione sarebbe calcolabile come beta volte la lunghezza dell'elemento strutturale che sto considerando. Questo in SAP invece, diciamo, vediamo se riesco a aumentare il carattere, quindi riscrivo, quindi è beta volte per la lunghezza dell'elemento strutturale. Questo in SAP invece viene tradotto con l'utilizzo di due fattori, uno si chiama l'l-factor, che fra un attimo spiegherò, e uno si chiama il k-factor, quindi un fattore l-factor e un fattore k-factor. Allora, partiamo dal k-factor. Il k-factor è il nostro beta, perché questa l non è la lunghezza dell'elemento strutturale all'interno delle verifie di SAP, ma è la lunghezza dell'elemento finito. Se l'elemento strutturale e l'elemento finito coincidono, cioè se l'elemento frame va da nodo a nodo, per esempio di una colonna, quindi da questo punto a questo è un unico elemento frame, l'l-factor sarà pari a 1 e quindi la lunghezza dell'elemento finito coincide anche alla lunghezza dell'erare dell'asta. Immaginatevi però, per esempio, ve lo faccio in questo esempio, di dividere questo elemento colonna in 1, 2, 3, 4, 5, 6 porzioni. È chiaro che questo l che sto considerando non è la lunghezza della colonna, ma è la lunghezza del singolo elementino finito, quindi questo l-factor automaticamente sarebbe 6, perché riporta la lunghezza di questo elemento finito alla lunghezza della colonna. Vedrete che questo l-factor è completamente automatico dentro SAP, in realtà può essere manipolato dall'utente, ci sono dei criteri con cui SAP ragiona per la determinazione di questo l-factor che ovviamente possono essere governati, sovrascritti e devono essere conosciuti soprattutto, quindi è chiaro che è necessario conoscerli, ma sostanzialmente dipendono dalla geometria, quindi è abbastanza semplice questo utilizzo. Dopo vi farò vedere degli esempi. Questo invece è il k-factor, quanto vale il beta di questo elemento strutturale? Beh, questa è una struttura a nodi spostabili, se la trave fosse infinitamente rigida, questo nodo della colonna non potrebbe ruotare in testa, quindi questa forma mi farebbe evidenziare una forma di una mensola, quindi beta sarebbe pari a 2, quindi per strutture con travi infinitamente rigide, un portale fatto così con una trave infinitamente rigida comparata alla rigidezza della colonna, il beta della colonna sarebbe tendente a 2, cioè il beta minimo è 2. Quanto vale il beta massimo? Beh, dipende dalla rigidezza della trave, ipotesi limite, facciamo un ragionamento a schemi limite come ci insegnavano a ragionare spesso a scienza o a tecnica delle costruzioni, con lo schema limite ipotizziamo per esempio una trave infinitamente flessibile, una trave infinitamente flessibile beta sarebbe infinito, cioè la struttura è labile, se questa trave è incapace di resistere a rotazione è chiaro che questa colonna diciamo è incapace, il portale è incapace di resistere a forze orizzontali, pertanto la struttura è labile ovvero beta ha una lunghezza libera di inflessione infinita. In tutte le condizioni intermedie invece si adotta un criterio che è quello della lunghezza libera di inflessione in tutte le normative, compresa la nostra, che si calcola abbastanza facilmente, nel Baglio Mazzolani è descritto molto bene questo approccio, si chiamano i grammi di Wood o normogrammi, quindi diciamo questa slide è proprio presa dal Baglio Mazzolani, qua addirittura ci sono due pagine del Baglio che spiegano l'approccio per struttura nodi fissi e per struttura nodi spostabili, questa era la condizione proprio che dicevo prima, cioè trave infinitamente rigida beta pari a 2 di una struttura nodi spostabili, mentre con l'ipotesi di incastra al piede ovviamente beta è pari a 1, cioè la lunghezza libera in questo caso è pari all'altezza della colonna e questo è proprio l'esempio che dicevo prima dello schema limite, cioè trave infinitamente flessibili ovvero cerniere e la struttura è labile beta è pari a infinito. Allora questo si opera in questo modo, si fa il rapporto delle rigidezze delle colonne che incidono su un nodo diviso le rigidezze delle travi che incidono sullo stesso nodo e si chiama alfa, in particolare alfa 1 del nodo superiore e alfa 2 del nodo inferiore e oppure il contrario alfa 1 del nodo inferiore e alfa 2 del nodo superiore, è indifferente quale dei due ordini scegliete, tanto è simmetrico il ragionamento. Unendo questi valori dei rapporti di rigidezza si ottiene il nostro beta, quindi anche in questo caso ragionando per schema limite è semplice, per esempio ipotizzate la presenza di un incastro alla base del portale, quindi questo rapporto di rigidezza è tendente a zero perché se è un incastro la trave è come se fosse infinitamente rigida, quindi la colonna perde di rigidezza nei confronti dell'incastro, quindi parto da zero. Ipotizziamo per esempio una cerniera superiore, quindi incastro inferiore e cerniera superiore, è questo esempio qua, quindi incastro superiore e cerniera, incastro inferiore scusatemi, cerniera superiore, quindi questo concetto. Se vado a vedere, se unisco lo zero, cioè l'incastro, con la cerniera che invece è l'infinita rigidezza, quindi infinito rapporto, quindi alfa tendente a infinito, se unisco questi due valori con una retta ottengo beta 2, quindi il concetto è che poi ragionando in termini, poi nel baglio ci sono anche gli esempi, ma ragionando nei termini del normogramma è facile andare a intuire i beta e in tutte le vie intermedie si fa questo e SAP si calcola, utilizza questo metodo, ovviamente sempre nel baglio, oltre alla trattazione grafica dei diagrammi di Wood c'è anche l'implementazione numerica, cioè algoritmica, ovvero algebrica delle forme che portano al tracciamento dei diagrammi a doppia scala logaritmica dei diagrammi di Wood, e utilizza questo per determinare il K, quindi in pratica, anche in questa slide c'era l'esempietto calcolandolo a mano, vi viene fuori il K che SAP si calcola sulla base dei rapporti tra rigidezza della colonna incidente sul nodo e della trave incidente sul nodo. E' chiaro che qua le condizioni sono leggermente più complesse, ma non tanto, per esempio ipotizziamo questa, facciamo le verifiche, quindi lancio le analisi, lancio la procedura di verifica, nella barra a sinistra vedete, non si vede blinkare perché lo zoom è parziale, ma nella barra a sinistra si vede l'avanzamento delle verifiche, entra dentro la verifica strutturale di questa colonna, le verifiche entro SAP si interrogano semplicemente, tasto destro vengono mostrate tutte le verifiche strutturali, viene mostrata in particolare quella peggiore, in Flexur ci sono la spiegazione di tutti i parametri di verifica, ovviamente c'è il codice che viene utilizzato, ci sono i dati sull'età di misura, i dati sulla sezione, quindi sulla lunghezza del frame, su dov'è, sulla classificazione della sezione, classificazione che ovviamente avviene in modo separato per la flangia, per l'anima e poi viene combinata con il metodo che è presente sia nel neurocodice che nel NTC, le classificazioni a livello procedurale sono più o meno le stesse. Ci sono parametri dei gamma, dei fattori di amplificazione parziale di sicurezza, ci sono le caratteristiche inerziali e di aree efficaci delle sezioni, tenete conto che SAP verifica sezioni in classe 1, 2, 3, ma anche sezioni in classe 4, per le sezioni in classe 4, in realtà sezioni in classe 4 si limita a determinate forme geometriche, ma nelle sezioni, perché sono quelle suscettibili di instabilità locale, quindi sono verifiche estremamente complesse, in cui si va a calcolare quelle che sono le aree effettive e W effettivi della sezione epurata dalla parte instabile, quindi si elimina con i criteri appunto presenti nelle diverse norme, in particolare anche nelle NTC, si eliminano porzioni di sezioni, quindi l'area efficace rispetto all'area ovviamente assume valori diversi quando la sezione è di tipo di classe 4, come nella scelta del W elastico, del W plastico, oppure dei W effettivi, quindi chiaramente dipendente dalla classificazione delle sezioni, sappiamo che in classe 1 si utilizza W plastico, anche in classe 2, seppur con gamma diversi, in classe 3 ci si limita a W elastico, in classe 4 invece si utilizzano i W effettivi. Le formule di verifica vengono riportate nel dettaglio, quindi dove c'è l'uguaglianza con l'eurocodice e l'eurocodice, se non viene indicato l'NTC, vengono riportate, nel manuale di verifica, vi ho detto prima, c'è la spiegazione, anche in quello italiano c'è proprio la spiegazione di tutti i passi e di tutti i pezzi che compongono questa finestra, e poi c'è, quello dicevo prima, il calcolo dei fattori, dell'L factor e dei K factor. Allora, gli L factor, lo vedrete dopo, sono sulla base geometrica, il K factor sono determinati sulla base dei criteri che vi dicevo prima, c'è il K factor, sono più di uno, io nella formula viene scritto uno solo, però si distingue effetto euleriano nella direzione forte, effetto euleriano nella direzione debole, e poi soprattutto esiste il K factor anche nei confronti dello svergolamento flesso torsionale, perché ricordiamocelo, i vincoli che noi diamo alle nostre sezioni, per esempio quella, l'esempio della baraccatura che ho detto prima, o della soletta collaborante che abbiamo in questa nostra struttura, sulle nostre travi, quella impedisce, blocca la piatta banda superiore, impedisce l'instabilità per effetto euleriano, quindi quello major e quello minor dovrebbero essere, devono essere, sono azzerati, mentre il flesso torsionale è azzerato se comprime la piatta banda, se la piatta banda compressa è quella bloccata dal lateral bracing che abbiamo messo prima, oppure invece è unitario se sta, diciamo, comprimendo l'altra piatta banda, quindi se vado per esempio a vedere questi K factor sulle travi, se, non è detto che in questo esempio abbiamo messo il lateral bracing, se metto il lateral bracing, quindi il modello di prima abbiamo fatto assieme, questo K factor risulta essere azzerato nei confronti della flesso torsione, chiaramente dipende non solo dall'avere attribuito questo lateral bracing, dipende appunto dalla analisi che sto guardando, se comprime o meno la piatta banda giusta che abbiamo bloccato con il lateral bracing. Dicevo, tornando alla colonna, l'L factor quindi è calcolato sulla base geometria, mentre il K factor è calcolato sulla base dei normogrammi che dicevo prima e quindi sulla base dei rapporti tra rigidezza delle colonne e delle travi incidenti su nodi, chiaramente si procede a calcolare alfa 1 e alfa 2, ripeto la numerazione 1 e 2 è indifferente, è arbitraria, facendo il rapporto delle rigidezze delle colonne, la somma delle rigidezze delle colonne che incidono sul nodo diviso la rigidezza delle travi che incidono sul nodo, è piano l'esempio, è piano il ragionamento quindi separatamente nei due piani e si procede in questo identico modo per la determinazione delle lunghezze liberi. L'ultimo accenno che faccio è sull'L factor, immaginiamo per esempio di voler spezzare questo elemento strutturale in due parti, ora due parti uguali ma non necessariamente uguali, quindi ho diviso questo elemento, andiamo sulla telaio di testa che è quello che sto modificando così almeno si vede, eliminiamo dalla vista il nome delle sezioni e anche introduciamo la vista dei nodi, quindi c'è una colonna che è questa, che è quella che ho spezzato prima in due elementi strutturali, semplicemente lanciando le analisi e poi successivamente lanciando le verifiche strutturali, noterete appena la procedura di verifica si è conclusa, in questo caso sta rifacendo l'ottimizzazione perché il modello non aveva arrestato la procedura di ottimizzazione, facendo la verifica andando a vedere il L che viene inserito dentro automaticamente viene computato e inserito 2 proprio perché la lunghezza dell'asta fisica è due volte la lunghezza dell'elemento finito che noi stiamo invece considerando e questo l'ho fatto semplicemente guardando dal punto di vista di mera, geometria riconosce la presenza di travi e quindi blocca o non blocca determinati noti, diciamo sul manuale è descritta bene la procedura per il calcolo delle fact e dei k-fact e poi in qualunque momento voi abbiate dei dubbi relativamente a questo o qualunque altro concetto ci contattate sia via email che via telefono magari anche mandandoci il modello così vi rispondiamo direttamente sul vostro caso specifico. Ok passiamo invece adesso alla verifica dei dei nodi di collegamento quindi il programma che gestisce la parte di realizzazione di modellazione ma più che altro di verifica degli elementi di connessione quindi delle connessioni tra diversi elementi strutturali. Il programma si chiama scs noi lo distribuiamo e attraverso questo programma si possono gestire le verifiche di numerosi nodi sono quelli che si visualizzano poi principali che sono quelli che si visualizzano in questa schermata che appunto ci mostrano le diverse tipologie. Oltre a quelli che si vedono in realtà vi dico che molti di questi nodi hanno la possibilità all'interno tra i parametri che adesso mi vedrete su cui mi vedete mi vedrete operare hanno la possibilità di utilizzare delle sezioni tipo tubolare questa è la novità dell'ultima versione rilasciata ad agosto più o meno a fine agosto quindi nella versione attuale appunto oltre a quello che già vediamo qua a video c'è già la possibilità di selezionare all'interno di ogni finestra di dettaglio di verifica del nodo anche le sezioni di tipo scatolare tubolare in generale quindi pipe circolari oppure scatolari quindi rettangolari o quadrate. Andiamo a fare a selezionare un determinato tipologia di nodo per esempio partiamo dalla connessione trave trave quindi trave principale trave secondaria che ovviamente è presente all'interno del file. La procedura è abbastanza semplice si apre la finestra di definizione generale sulla base della quale si possono stabilire scegliere per esempio le normative quindi gli eurocodici, il codice italiano, le british, le americane, le russe quindi ci sono anche le snip, le canadesi e quant'altro in particolare per esempio seleziono l'NTC. La lingua con cui andare a effettuare l'utilizzo del programma quindi semplicemente fa una traduzione in real time dei parametri di interfaccia. Poi ci sono tanti parametri di tipo opzionale che consentono di andare a entrare nel dettaglio delle scelte di verifiche che il programma esegue che vedrete eseguire adesso vi mostro. Il primo step da fare è quello di selezionare un file SAP quindi scegliere una file sorgente quindi andiamo a selezionare uno dei qualunque file che per esempio quello che stiamo visualizzando abbiamo fatto prima quindi il modello 0 quindi uno qualunque tanto non mi interessa quale si apre SAP quindi la SCS sta governando SAP a differenza di VIS non è allo stato attuale un vero e proprio plug-in cioè non compare all'interno del menu tools tuttavia su questo ci stiamo lavorando cioè il passaggio da quindi l'interoperabilità tra diciamo SCS e SAP la si può ci siamo ci si interviene ci interviene diciamo il team di sviluppo di SCS e l'idea è quella di introdurlo come strumento e quindi come plug-in questo per migliorare ancora di più l'intrascambio dei dati ma tutto sommato già così è operativo l'interscambio perché SCS ha governato in questo momento su SAP cioè mi chiede di fare delle procedure di lavorare sul modello SAP in particolare per esempio vado a selezionare vado sul penultimo impalcato tanto per fare un esempio e seleziono uno dei tanti nodi che si hanno tra la di unione tra la trave secondaria e la trave principale che stava ovviamente sul filo e quindi questo elemento è l'elemento secondario questo è l'elemento primario ho selezionato l'asta e ho selezionato una delle due estremità torno sul sulla finestra del programma e chiedo di far caricare i dati mi dice che ha trovato a me dice di far girare le analisi in realtà prima quindi mancano i risultati dell'analisi quindi le eseguo adesso tutte tranne quella che abbiamo introdotto prima non lineare tanto non la utilizziamo e solo quelle diciamo statiche spettrali con le combinazioni che abbiamo definito precedentemente quindi il concetto è che il flusso di lavoro è questo cioè si lavora in SAP si arriva a una determinata definizione del modello e poi si comincia a operare sui nodi quindi riseleziono quello che avevo selezionato precedentemente e carico le informazioni mi dice che il nodo è 204 mi dice che l'elemento secondario è un ip220 e che l'elemento principale era in questo caso una ip400 a questo punto posso fare una serie di procedure per esempio comodo estremamente comodo è cercare simili questo vuol dire che automaticamente cliccando qua mi si va il programma seleziona quelli che sono tutte le condizioni simili vedrete vedete che via via vengono selezionati un certo numero di nodi un certo numero di aste che sono le condizioni simili cioè condizione simile vuol dire trave secondaria ip220 tra le principali ip400 tutti i nodi destra e sinistra delle diverse condizioni quindi alla fine di questa ricerca diciamo all'interno del modello vi dice sostanza di fare un refresh delle sollecitazioni di importare queste determinate condizioni ovviamente tutte le altre condizioni con sezioni diverse non le ha messe messe in conto per esempio in questo caso questa sezione era diversa da questa e quindi l'estremo di destra non l'ha considerata seleziono un certo numero di combinazioni anche tutte ma ora per un esempio ne seleziono alcune comincio a lavorare direttamente sull'interfaccia di scs per la verifica degli elementi strutturali la prima condizione che faccio faccio notare appunto le combinazioni cioè vengono importate queste combinazioni con i nomi che abbiamo e le tipologie che abbiamo precedentemente descritto si può anche ragionare in termini di lo vedrete fra un attimo di gerarchia delle resistenze cioè fare un nodo a ripristino e quindi ripristinando la resistenza più che guardando le sollecitazioni quindi dopo ve lo mostro prima però prima di arrivare alla resistenza devo stabilire una serie di parametri che sono ovviamente fondamentali iniziamo dalla tipologia delle sezioni quindi per esempio dai materiali ipotizziamo per esempio un s355 di definizione delle diverse diverse sezioni comincio a mettere dentro un po di informazioni per esempio la classe dei bulloni e la dimensione del bullone procede in termini di verifica quindi sta facendo una verifica la possibilità di passare fuori isolati fuori normali fuori calibrati intanto dopo ci torno in queste in queste definizioni per ora setto i parametri che mi interessano il materiale del piatto base la geometria per esempio questa è una connessione a taglio stabilisco una matrice composta da un'unica colonna di forature e poi potrei mettermi qua a passare i diversi parametri vedete è tutto parametrico oppure anche dimensionale quindi la possibilità di dimensionarli che fra un attimo vedrete le dimensioni di questi parametri posso anche dirgli di scegliere le distanze base quindi customizzare il nodo già in automatico perché in pratica ha già settato le distanze in modo tale da rispettare la normativa nei confronti delle distanze minime per esempio dal bordo dal bordo libero dal bordo dalle piegature tra i passi tra i bulloni e quant'altro quindi non mi rimane altro che eventualmente andare a sovrascrivere anche per ripulire il diciamo i valori che ha suggerito e automaticamente vedrei il nodo che via via comincia a comparire e a essere popolato nella nella condizione giusta per esempio adesso quello devo fare è scantonare la trave superiore oppure distanziare la trave superiore immaginiamo per ora banalmente di porre una distanza quindi una costolatura maggiore di connessione nodo naturalmente modificando questo parametro si modifica l'eccentricità tra trave principale trave secondarie e quindi gli effetti parassiti che si hanno all'interno dell'unione quindi delle verifiche vedrete anche questi effetti vengono ovviamente tenuti in conto tra l'altro il programma tiene in conto di tutti i momenti deboli oltre al momento forte quindi ai momenti che porta dentro dall'analisi quindi in sostanza tiene in conto di tutte le sollecitazioni che vanno a prendere gli elementi l'elemento di connessione alternativa invece di agire sulla sull'allontanamento quindi su creare gioco per esempio in questo caso sicuramente semplificherebbe la realizzazione un nodo del genere ma insomma giusto per per mostrare limito il gioco della trave per esempio a 20 mm di spostamento e poi vado a scantonare vado prima a mettere per esempio il doppio cordone spessore 6 mm e vado poi a scantonare l'ala superiore e a passare una geometria tale da permettermi la scantonatura in tempo reale ovviamente vedo quello che succede all'interno della geometria del nodo e quindi mi consente ovviamente conoscendo i parametri dove intervenire mi consente di attribuire di realizzare insomma il nodo così come me lo aspetto a questo punto le dimensioni sono diciamo visualizzate anche con simbologie quindi la simbologia sulle saldature la distanza tra gli elementi di connessione che ho detto prima c'è la possibilità di irrigidire la presente trave principale nel lato opposto quindi l'introduzione di costolature di modificare anche i parametri di eccentricità che dicevo prima che vengono invece calcolati sulla base dei diversi delle diverse condizioni di geometria le verifie sono divise una schermata di riepilogo generale ma anche divise per meccanismo di resistenza bullone meccanismo resistenza di rifollamento del piatto rifollamento della trave secondaria block shear del plate block shear della trave secondaria e così via quindi in sostanza le saldature insomma in pratica ogni ognuna di queste linguette porta il la porta l'implementazione delle verifiche corrispondenti il ogni formula che viene utilizzata è esplicitata comunque scritta all'interno dell'interfaccia e molto lo vedrete dopo molto interessante sarà la parte di relazione che viene scritta in automatico sulla base del singolo nodo quindi si agisce ovviamente ci sono effetti di log sul che cosa sta succedendo sul nodo per questioni puramente geometriche o per questioni legate alla resistenza una delle cose che mi diciamo che sin dall'inizio mi ha colpito è l'estrema facilità di rilettura poi dei meccanismi di quello che sta succedendo cioè dei meccanismi di rottura in questo caso si vede che governa il rifornamento o del piatto o dell'anima della trave tant'è che probabilmente andando a modificare la geometria in sostanza o la tipo abbassando la classe del bullone quindi portandola volutamente a valori più bassi vedete la simbologia è passata da un meccanismo che era di rifollamento del piatto della trave cioè dell'anima della trave a una rottura al tranciamento del bullone perché la resistenza in questo caso quello che governa è la rottura del bullone quindi quello che sta governando a livello di fattori di utilizzo cioè quello che prevede il fattore utilizzo più alto è il meccanismo che ovviamente governa il nodo era già verificato ma è comunque un determinato fattore di utilizzo che viene scritto e c'è quello viene anche descritto qual è il meccanismo in questa cosa il rifornamento del profilo quindi l'unico modo per agire o è o rinforzare il profilo quindi per esempio aggiungere un piatto di rinforzo sul profilo in questo caso di nuovo il profilo non governa più e governa il taglio sul bullone con un fattore di utilizzo che ovviamente era quello previsto sul taglio del bullone quindi il concetto è che ogni elemento che voi modificate o introducete quindi nervature diciamo rinforzi dell'anima come ho fatto vedere adesso o concetti legati alla realizzazione della connessione o questo produce in tempo reale la visualizzazione di quello che è il meccanismo appunto di resistenza che sta governando ovviamente questo è solo un esempio ma nello stesso diciamo nello stesso esempio avevo preparato c'è sempre un modello di sap avevo preparato quindi il webinar di oggi delle connessioni diverse per esempio la connessione quella momento tra trave e questo prendo il file di scs direttamente tra trave principale e colonna sull'asse forte quindi un nodo a flangia nodo che consenta l'applicazione del momento in questo caso questa era la finestra corrispondente e anche in questo caso si va a modificare e inserire i parametri molto semplicemente come ho mostrato prima e si visualizza il meccanismo di collasso come precedentemente in questo caso è la interviene sulla piatta banda della colonna quindi facilmente diciamo evidenziato il meccanismo di collasso in questo in questo caso dicevo una delle forze l'altra forza diciamo del dscs è quella della capacità di relazionare queste informazioni quindi si può creare sia un report che un di xf del nodo xf del nodo è quello che vedete qua in realtà cioè è lo schema che che stiamo visualizzando però la diciamo la relazione è notevole ovviamente ho salvato per esempio partiamo dalla quella di prima connessione tra tra la trave secondaria e la trave principale ovviamente il nodo era diverso quindi l'avevo preparato in modo diverso il questa è la relazione che viene che viene restituita quindi c'è uno schema geometrico ci sono delle impostazioni generali come la definizione della della normativa degli euro codici in questo caso se non delle ntc e le sollecitazioni importate i fattori che sono stati utilizzati i parametri del profilo dei bulloni dei piatti quindi puramente controlli di tipo geometrico quindi anche tutte le verifiche vengono fatte e la formulazione completa di tutte le verifiche strutturali eseguite sugli elementi di connessione quindi sui bulloni sul rifollamento sul block shear su block tearing insomma del sui piatti insomma il o sul profilo insomma sui diversi le diverse verifiche vengono eseguite all'interno della degli elementi di connessione alla fine c'è un riepilogo di tutte le verifiche una sorta di commenti insomma e poi anche i riferimenti di tipo normativo tra i nodi che abbiamo visto c'è ovviamente avevo esportato la relazione della connessione a momento ecco nelle connessioni a momento oltre alle verifiche di resistenza faccio notare una delle caratteristiche più vengono chieste che sarebbe abbastanza complesso andare a calcolare tutte le volte è la rigidezza del nodo quindi la rigidezza rotazionale della connessione quindi si arriva fino alla definizione di quello che è lsj con la formulazione che è stata seguita e anche con tutti i riferimenti normativi e quindi con le riferimenti con le formule insomma che vengono utilizzate in molti contesti anzi in tutti i contesti c'è proprio la formula esplicita in forma algebrica che viene eseguita in fase di verifica. Ok io penso di di aver mostrato un po' tutto quello che volevo volevo mostrare adesso se ci sono domande e ne ho viste tante mentre parlavo dall'inizio adesso comincerò a leggerne qualcuna dal dal basso verso l'alto per motivi di facilità di rilettura e ovviamente le vedo solo io le domande perché in go to webinar diciamo ognuno di voi colloquia con me in forma pseudo privata quindi diciamo mi viene fatta una serie domande. Allora ecco l'ultima domanda di Stefano di Stefano era viene calcolata la rigidezza del nodo e sì me l'hai fatta me l'avete fatta alle 12 e 21 quindi due minuti fa e quindi il scs produce la verifica del calcolo della rigidezza del nodo poi sta a tu a noi andare e a computare o a inserire questa rigidezza volendo nel modello io su questo sono abbastanza categorico cioè tendo a ragionare per scani limite un po' come appunto si è sempre fatto come i grandi autori dell'acciaio prima ho citato il baglio mazzolani ma insomma c'è il libro del baglio e del mazzolani ma insomma ovviamente tanti altri autori non si ata ovviamente non posso citarli tutti e chiaramente citandone solo alcuni è un po' un problema ma comunque in generale per quanto mi riguarda un po' il libro di riferimento è quello del baglio e baglio mazzolani e dicevo il quindi ragione in termini di schema limite quindi normalmente per me i nodi sono un incastro o una cerniera completa è chiaro che dentro sap c'è la possibilità di andare a inserire delle cerniere interne ai diversi elementi strutturali passando proprio la rigidezza e quindi andando a passare parametri che appunto sono calcolati o calcolabili da scs sì per luigi con scs si possono verificare dei nodi su alcune sezioni ti inviterò poi se vuoi a scaricare una a chiunque di voi invito a scaricare una versione demo di scs contattatemi via email rispondete direttamente alla mail di corsi che avete ricevuto per l'iscrizione o per la newsletter di questo di questo degli altri degli altri webinar quindi si può gestisce la verifica di nodi tubolari e insomma poi ti descriverò in quali in quale condizione oppure lo potrai verutare te in quale condizioni in alcuni di quegli elementi che ho mostrato c'è la possibilità di passare come elemento principale o come elemento secondario una sezione tipo quadrato appunto rettangolare oppure quindi un tubo oppure una sezione circolare pipe la alcuni di voi mi avevano scritto che non sentivano a un certo punto ma però penso fosse solo una segnalazione di alcuni perché gli altri invece mi hanno dato feedback positivo quindi ok non vedo altre 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 domande quella di valerio cioè se ho quattro travi che convergono in un nodo no questo non non viene non viene gestito la le forme dei nodi che che ci sono sono quelle che ho che si mostrano dall'interfaccia poi anche lì basta guardare scaricarsi il manuale vedersi il in dettaglio tutte le tipologie di verifiche so che stanno sviluppando la parte di strutture reticolari quindi la gestione di nodi sempre più complesse anche da un punto di vista spaziale e in generale qualunque genere di forme di nodi che non trovate dentro vi invito a contattarci a mandarci segnalazione poi ovviamente io giro la segnalazione stessa agli sviluppatori ora siamo quasi in chiusura io vi ricordo vorrei ricordarvi a tutti voi ma riceverete comunque la newsletter di un evento che stiamo facendo stiamo organizzando a roma attraverso con l'ordine degli ingegneri di roma ma aperto a tutti è un seminario è un seminario internazionale sarà fatto in lingua inglese ma in realtà con traduzione simultanea stiamo per aprire le iscrizioni quindi ovviamente la sala è molto grande quindi riceverà sicuramente un gran numero di possibilità di iscritti però siccome è un seminario dura un'intera giornata ovviamente è gratuito a crediti tanti anche i dettagli verranno rilasciati nei prossimi giorni il seminario è sul pbd cioè su performance based design quindi sull'analisi tipo prestazionale quindi analisi pushover dinamica non lineare diciamo tutte le procedure analitiche più all'avanguardia per la valutazione della risposta sismica di strutture quindi gli argomenti sicuramente sono interessanti i docenti diciamo di notevole spessore vi segnalerò a tempo debito attraverso newsletter probabilmente l'inizio della settimana prossima l'apertura delle prescrizioni le iscrizioni verranno fatte in realtà gestite dall'ordine degli ingegneri di roma quindi sarà l'ordine stesso che registrerà gli iscritti però intanto per accelerare i tempi gestiremo un certo numero di iscritti noi e quindi poi vi inviterò a chi di voi è interessato a procedere con l'iscrizione ricordo il 20 novembre a roma tra l'altro la sala è accessibilissima centro congressi accessibilissimo della stazione termini proprio a piedi sono pochi minuti è vicino anche alla sapienza quindi in zona centralissima di roma quindi facilmente accessibile e raggiungibile quindi insomma questo era mi premeva dirlo perché è un'iniziativa che ovviamente insieme ai seminari insieme ai webinar ci permettono di essere sempre più vicini agli utenti e a voi fra l'altro a fine di questo mese c'è anche un seminario a udine mio in realtà fatto con l'ordine ingegneri di udine sul l'isolamento sismi e la dissipazione supplementare di energia non ho pubblicizzato non abbiamo pubblicizzato all'interno di csi italia perché in pochi giorni hanno raggiunto il limite dei 100 iscritti quindi in realtà ormai so che è completo però insomma ripeteremo sicuramente in altri ordini anche in quel caso c'erano tanti credici addirittura 16 quindi perché è un corso vero e proprio non un seminario quindi con testa anche finale dura tre pomeriggi quindi ha una durata significativa comunque tutte le iniziative ben o male le sono scritte sul nostro sito sulla nostra pagina linkedin e vengono pubblicizzate di volta in volta attraverso la newsletter quindi ovviamente vi invito a seguire le nostre iniziative dai canali che ho che ho descritto no il seminario di roma non sarà via web il seminario di roma sarà un seminario fisico sto rispondendo a delle domande che vedo là a pierluigi mi chiede quanti posti tanti diversi centinaia però comunque sia ovviamente affrettatevi l'unica cosa che vi chiedo la cortesia siccome nonostante siano 400 posti il diciamo si fa presto a raggiungere il numero ma soprattutto chi si iscrive ovviamente è un corso gratuito però chi si iscrive venga insomma perché altrimenti sottrae rischia di sottrarre dei posti a persone che in realtà utenti a clienti o comunque in generale a colleghi che sono intenzionati o vorrebbero insomma seguire quindi chiunque proceda all'iscrizione poi è chiamato a venire a costo di prendermi io carico di controllarvi uno per uno tutti gli iscritti adesso vi salutiamoci questo conclude il webinar di oggi ci vediamo la settimana prossima con un webinar su cimento armato tradizionale quindi di nuovo vis vorrei potervi mostrare la settimana che viene delle anticipazioni che verranno rilasciate sulle versioni a diciamo a breve di vis quindi un editor interattivo delle armature in tutta la struttura e tuttavia non so se appunto siamo attrezzati la settimana prossima per per mostrarlo spero di sì ci stiamo insomma lavorando per per far sì che sia pronta la diciamo durante la web comunque se no ve lo anticiperò e vi mostrerò quello che allo stato attuale è possibile insomma mostrare vi ringrazio di nuovo un caro saluto a tutti buon pranzo e ci vediamo sicuramente nei prossimi webinar e nei seminari continuate a seguirci in tutti i canali possibili che abbiamo ormai in questi anni messo in pratica grazie ancora a presto